Svegli tutto, dita giù il telefono, metti la casca, accendi le vinci fuoco e datemi 3.000 mani dritte al cielo per 5 secondi della vostra vita E voglio veramente dite, ricordate, di mattina sulle mani al cielo adesso Basta 6 anni di sfiga, partigalo subito, sulle mani al lato E adesso poti sentire questo rumore, così Suono, che suone? Sì, ragazzi, suono, che suone? Grazie